Ciao, sono Roberto Lacorte, faccio l'agente immobiliare da oltre 10 anni, ho creato la raccolta immobiliare con un metodo vincente. Sai, nel 2015 abbiamo fatturato quasi 350.000 euro, è stato un successo per la mia agenzia. Considera che di quei 350.000 euro ho portato 100.000 euro in tasca per me. Sai, bisogna considerare sul fatturato le tasse, togli le tasse, considera il pagamento, i costi e i collaboratori perché in quel periodo eravamo in tre e io ho avuto un riscontro di 100.000 euro solo per me. Se tu vuoi capire come ho fatto, clicca sul pulsante qui sotto.